Ciao, io sono Giuseppe e mi è stata affidata la parola custodia. Custodire significa sorvegliare, significa assistere, ma significa soprattutto curare. Neanche a farla apposta il santo a cui nome è San Giuseppe e il custode di Gesù e Maria. Sappiamo che quando Giuseppe venne a conoscenza della gravidanza miracolosa della sua sposa tante erano le domande, ma la risposta arrivò subito quando l'angelo gli apparve in sogno e gli spiegò che quella era opera dello Spirito Santo e che grande era ciò che stava per avvenire. Da allora Giuseppe decise di sposare la causa, decise per appunto di custodire Gesù e Maria e soprattutto nel periodo più difficile, quando dovettero sfuggire dalle grinfie del re Erode. Questa parola custodia per me è molto importante, anche in virtù del percorso che ho deciso di intraprendere. Io ho scelto di rimanere qui a Foggia, di studiare qui. Sono un neolaureato in giurisprudenza e oggi mi adopero giornalmente per cercare di coronare il mio sogno e di lavorare un domani qui a Foggia, cercando di dare il mio piccolo contributo. In quanto giurista vorrei leggervi l'articolo che io ho più a cuore della nostra carta costituzionale. Molti conoscono la Costituzione per l'articolo 1. A me più piace l'articolo 2, che vorrei leggere con voi. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove svolge la sua personalità. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale. Ecco, la solidarietà è questo. La solidarietà vuol dire prendersi cura, custodire, sì, i propri cari, sicuramente la propria famiglia, i propri amici, ma soprattutto gli altri, chi non conosciamo. Cercare di indossare i suoi panni, indossare le sue lenti e guardandolo negli occhi scoprendo che di per sé abbiamo la stessa anima e che forse non siamo così diversi. Ecco, il mio invito è proprio questo, quello di scegliere qualcosa per cui combattere, di crederci fino alla fine in quel nobile ideale e di prendersene cura. Adesso, prima di andare a dormire, recitiamo insieme tre Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Buonanotte.